Ragazzi, prima di iniziare questo video vi volevo aggiungere che se arriveremo a 5 iscritti farò lo speciale 5 iscritti con la Crossbar Challenge E niente, sono questo e buona visione Ciao a tutti ragazzi, sono Giannix Oggi siamo tornati per un nuovissimo video del canale di Giannix Oggi, come già sapete, è il secondo episodio Dobbiamo fare un altro mondo perché sicuramente ho letto che volevate rifare il mondo Quindi ho cancellato l'altro mondo E adesso lo chiameremo Minecraft Vanilla S1 Minecraft Vanilla Stagione 1 Adesso mettiamo il seme a caso ragazzi 6 Ok Se vi piacerà questo mondo vi lascerò il seme in descrizione Ci metto un botto a caricare perché non lo so Sì, non lo so Non lo so proprio No, non lo so Ok, siamo spawnati Si sta fregando il mondo Quindi aspettiamo un po' Sento Ecco dell'acqua Sì, lo sapevo Beh dai, non è male Dai, là Se è libero faremo la nostra casa Però lo farò nel terzo episodio Dobbiamo fare prima tutta la roba Dobbiamo raccogliere Legna, legna, legna Legna Proprio tutta legna Dobbiamo raccogliere tutto E quindi Sì Raccogliere tutto Tutta la legna che abbiamo qua intorno Quindi ci metteremo un bel pa Già Eh sì Una cassa giornaliera è in attesa Sto giocando sia MCVS Modern Combat Versus E se vorrete un video di quel tipo lì Ditelo in qui sotto i commenti Quindi ve le farò i video Quindi sì A me piace molto perché Si può saltare Cioè si può saltare sui muri Difficilissimo far tutta sta roba Quindi ecco perché Non piace stare a vedere solo la mano Quindi Dobbiamo sta roba perché Fa schifo Facciamoci 40 pezzi di legna Poi prendiamoci questa Altra legna Aspetta Prima facciamoci la crafting Bello table Uno Poi Facciamoci Degli sticks Una Accitta Ok Adesso andiamo a scavare di nuovo Ma ben già saprete Questi video dureranno circa 8 minuti Quindi Sì 8 minuti 8 minuti O 10 Non lo so Io non taglio i video perché Vorrei parlare con voi Ecco perché non taglio mai i video Quindi Io la edito e basta Quindi Un'entra Del genere Volevo registrarla ma Cioè adesso sono le 8 di No sono le 7 di sera Lo volevo solo registrare Primo ma non avevo tempo Perché sono andato da una parte Quindi Non avevo tempo comunque E poi E poi Allora Allora Prendiamoci la betulla La betulla Nostra La betulla Ok Sì Bene La betulla La casa la faremo Di betulla E quindi Uno faremo adesso O la faremo Più tardi Cioè Cioè Il terzo episodio Quindi Decidete voi Anzi No Decidete voi Perché Non so Vediamo Non so Però io lo vorrei fare Oggi Perché Dato che Cioè Qua ci sono molti alberi Però io devo prendere Tanta legna di betulla E devo prendere Questa legna qui Due stacche Se nemmeno Me ne forma Di più stacche Mi da più stacche Quindi devo prendere Molti stacche Quindi Ci metteremo un bel po' Di tempo A prendere Tutto stacche Quindi Questo video Durerà di più Quindi Spero che vi vicino Non so Allora I due alberelli Non mi fanno niente Quindi Abbrazziamocene subito Allora Prendiamo il totale Flafting così Almeno Che pizza Questi alberelli Schifosi Buscello Schifoso Allora Invece Prendiamo il totale Così almeno Ce lo portiamo dietro E poi Dobbiamo far Ah no Aspetta Dovevo farci Una spadina E un picconcino Di ferro E si E qui Dovremo anche Ammazzare un po' Di animali Perché Cosimo Non possiamo Mangiare Si Possiamo Mangiare Allora Già Qua c'è Un animale Mi ha dato Un pezzo Di lana E Un po' Avanti Qui Da qualche parte Abbassare un po' Qualche rimanetto Però Però Io volevo Prima fare questo Sto L'acqua Sì Volevo Farla Questa Dovevo Fare Prima Volevo Prendere Prima La lena Cos'almeno Faccio Più Facciamo Meglio Però Devo Prendere Assolutamente La lana Che La prenderò Adesso Uh C'è Una Grotticina Non lo so Vedremo Se c'è Una grotta Qui Non la torcia Perciò Non vedo Niente Quindi Ci andremo La prossima Volta Nella grotta quando avrà delle tarce avete capito bene delle tarce raccogliamo un po' di sta legna di betulla si ci pioggia si 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 ok raccogliamo raccogliamo sta betulla ci metteremo un anno intero perché siamo già 6 minuti non abbiamo fatto niente vedetevelo all'infinito io parlerò finché non finisco di raccogliere la betulla non mi arrendo ragazzi non mi arrendo non mi arrendo Giannix non si arrende mai quindi diamone molta 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 ma molta molta è finita la città ce ne facciamo un'altra bello bello ok prendiamo la betulla la prendiamo molta 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 poi andiamo qui non c'è un'altra io la casa la farei adesso la seconda parte della casa la faremo nel terzo episodio perché non riuscirò a fare tutto adesso perché devo montare il video editare adesso il video e montarlo adesso e quindi non so se ci metterò un'ora un'ora e mezza non lo so perché devo ancora mangiare quindi non so devo ancora decidere sì devo decidere bella allora vedo c'è una bella montagnetta quindi andiamo un po' a esplorarla poi dobbiamo prenderci anche della pietra perché della cobblestone perché noi abbiamo bisogno della fornace e un po' di roba da mangiare farmi le torce e servirebbe il carbone farmi le torce e basta e un po' di ferro e vediamo là c'è il carbone sì 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 mi piace ci piace questa montagna però come è che non lo facciamo salire non lo so vediamo un po' di terra quindi sì terra terra per abbassare un po' di volume così sentite poco perché sì ok prendiamo 12 non vedo se si basteranno ah 12 pezzi vediamo sì sì ci piace ci piace ci piace allora sì così va sì facciamo parkour ragazzi facciamo parkour ok ci piace siamo già arrivati quindi qui da qualche parte deve essere qua qui e caspita erano ecco questo qua erano sì erano questi di sicuro erano questi quindi godiamoci questo carbone anzi godiamoci questo tempo 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 vediamoci tutto il carbone che c'è godiamoci la serata prendendo solo del carbone sì ci piace ci piace ci piace sì 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 allora 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 mi amor barò 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 ma non c'è non c'è questo video questo video finirà sicuramente prendendo solo le risorse quindi la casa la costruiremo nel terzo episodio domani dopo ster quindi quindi vedetevi questo video di risorse naturali sì sono risorse naturali perché c'è carbone tutto 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 di 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 tutto sotto i commenti e guardate sotto in descrizione cosa ho scritto quindi godetevi tutta la roba in descrizione ok non so se mi butto di buttarmi oppure non lo so quasi si 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 ci piace ok ho preso 35 di carbone e niente male però 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 la casa la faremo si ci piace ci piace ci piace una zucchetta le zucche ci sono qui ci sono delle zucche ci piace c'è anche una grottina qui però la visiteremo secondo episodio ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto quindi condividete lasciate mi piace sotto cioè lasciate mi piace se mi piace il video e iscrivetevi al canale quindi ciao